All'andata l'Arezzo era appena stato travolto dal caso Sperotto e sulle teste dei giocatori Amaranto pendeva la minaccia di essere squartati, riportando alla memoria il celebre sfogo dell'allenatore. Oggi il campionato pone nuovamente a confronto il Cavallino e la Carrarese in un contesto completamente differente, per un Arezzo a 30 punti in classifica forte di un ruolino di marcia nel 2016 di tutto rispetto. La squadra di Remondina, divisa tra gli ottimi risultati maturati sul campo e i problemi societari, annovera tra le sue fila gli ex Dettori ed Erpen, protagonisti della passata stagione a Maranto. Affrontiamo una squadra forte, noi siamo in un buon momento, io gli feci complimenti sia all'allenatore nell'immediatezza del dopogare e sia a Dettori che a Erpen, per l'amor del cielo. Fu una partita strana, io ricordo che facevamo un gran primo tempo su una grossa squadra con valori importanti, perché quello che stanno facendo vuol dire che hanno dei valori che escono dal campo, quindi sono ancora più forti. Quindi faccio i complimenti a tutta la Carrarese, a chi gestisce, al proprio allenatore, perché poi convivere con dei problemi non è mai facile, loro stanno facendo un grandissimo campionato. Nessun dubbio per il tecnico di Pesco Pagano sul modulo da schierare. Pagano ha delle conoscenze tattiche ben consolidate, quindi io do il vantaggio a tutti, stiamo giocando col rombo, quindi continueremo a giocare col rombo. Il problema è che sono tutte le altre squadre che quando giocano contro noi cambiano struttura, quindi vuol dire che ci temono, quindi questo ci inorgoglisce. Continua ad attirare l'attenzione su di sé Luca Tremolada in campo e fuori. Da una parte giocate da top player, dall'altra un contratto che scade il prossimo 30 giugno. Su questo punto Capuano non utilizza giri di parole e specifica che la trattativa con l'agente del calciatore adesso è affidata nelle mani di Roberto Gemmi, figura dirigenziale da poco inserita nell'organigramma di Viale Gramsci. Io non so come va a finire, anche perché non mi occupo più io, è arrivato un ragazzo molto serio, molto valido, che è Roberto Gemmi e quindi è lui che eventualmente parlerà per i rinnovi e quant'altro. A me di queste cose non dovete più parlarne, a me dovete parlare soltanto del campo.